Allora amici, come investire in Russia e avere dei dividendi semestrali da mettere nella nostra panza forte da reinvestire o per pagarci le bollette? In Russia ci sono parecchie aziende, io ne ho una, la Gazprom soltanto, che pagano grassi e simpatici dividendi come piace a noi. Poi c'ho il Panasian Dividend Aristocrats che investe soprattutto, c'è anche come mi sembra proprio la prima azienda su cui è la Rosneft. E ho trovato questo ETF perché tra quelli che ci sono, tra quelli armonizzati per cui per noi europei è più facile investire, ho trovato proprio questo, poi vi metto l'easing. Tenetelo doppio, a replica fisica ovviamente come piace a me, a distribuzione e anche il fondo lo dà già lo JustETF, il sito quello tedesco che raccoglie tutti. Infatti così ci sono in basso, trovate pure gli altri ad accumulazione che ci sono, però la dimensione dell'investimento del fondo è abbastanza piccola. Però non abbiate paura che vi porto un'esperienza che chi fa, chi deve vendere consulenza, fa sempre terrorismo su questo, attente alle vostre... Io avevo un ETF più o meno della stessa dimensione su YayGear dell'anno scorso e quando c'è stato il crollo sono riuscito a venderlo, ero ancora in attimo in positivo, stavano le giornate da meno 3 e meno 4, hanno iniziato a scendere pure il fondo. Ho detto vabbè me ne vado un piccolo profitto e poi vediamo che succede nei mercati e l'ho venduto subito ragazzi, non è vero che sono illiquidi. Le singole azioni o soprattutto i singoli bond possono diventare molto illiquidi perché quando s'alza la volatilità c'è panico, aumenta lo spread. Quindi se devi vendere, devi vendere a 3 punti sotto al prezzo di vendita. Parliamo di cose serie, è molto esposto nelle materie prime perché la Russia ovviamente è un paese molto ricco di materie prime e ovviamente petrolio ma non solo, ci sono tantissimi minerali. Questo ETF è soltanto per posizione lunga, giustamente non si può shortare, non shortate contro la Russia, come è meglio non shortare contro l'America. L'eisim ve lo metto sotto e diciamo che è rimasto un pochino indietro, è rimasto per fortuna rispetto alla Russia, ha avuto anche un calo del rublo. Quindi investite anche in un paese autonomo che prende le decisioni da solo, non è costretto a una banca centrale comune come quella europea, però comunque è un paese che in politica estera ha parecchi nemici perché si è in ballo la leadership mondiale. Per diversificare diciamo che investe sulle 30 aziende più capitalizzate, non in maniera esagerata, quindi è bene investire in questi paesi sotto forma di ETF. Sono tutte, anche se non sono materie prime, perché le conosco insomma alcune di queste aziende, c'è la Sberbank, che un po' tutti l'avranno sentita, non è soltanto in Russia, è anche gelocalizzata nei paesi come la Serbia, diciamo che sono alleati della Russia, non solo, in Oriente ce ne sono tantissimi. C'è la Lukoil, le telecomunicazioni sono il 10%, quindi andate ad investire anche in materie prime, questo mi piace, perché è questo periodo storico che si infiammerà l'inflazione, sì pagherò di più il gasolio della macchina, però chi come me ha investito piano piano, aspettando le discese dei mercati sulle varie aziende o ETF che comunque sono concentrate in questo business, se ci sarà un'impennata del prezzo del petrolio, del gas, materie prime, insomma non so, c'è anche il copper, tanti insomma, aumenteranno e aumenteranno anche i nostri dividendi e il nostro, si ingrasserà il mio portafoglio, anche il vostro spero, quindi Dategli un'occhiata, vi metto lì sin qua sotto e buon dividendo a tutti!